Milano è la città ideale dove atterrare con Campus Party perché ha le strutture, ha tutto quello che serve, la ricettività e anche la logistica per fare un evento come questo qui. Lo facciamo in tante città importanti nel mondo, era giusto arrivare a Milano, non è importante, è fondamentale, chi non investe in queste cose qua è fuori, è out, in tutti i settori, anche l'arte. Noi abbiamo esperienze di ragazzi qua che si stanno inventando mestieri che fino a ieri non esistevano, quindi cosa volete che vi dica? Noi ci viviamo in mezzo e quindi per noi è naturale, però dovrebbe essere naturale per tutti perché altrimenti qui andiamo incontro a un nuovo analfabetismo. Qua abbiamo degli speaker incredibili, abbiamo Federico Faggin che ha inventato il microprocessore ed è quello che poi ha dato il nome alla Silicon Valley perché l'ha fatto di silicio. Lui in questo momento sta proprio studiando questi temi ed è uno dei nostri speaker ed è uno degli amici di Campus Party.